Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, Santo Amo. È in famiglia che si impara a pregare. Oggi sorge spontaneo chiedersi perché, se è ancora importante, se ha valore. C'è chi dice io non so farlo o altri che vorrebbero imparare. Il cammino inizia tra le mura di casa per poi diventare un punto di riferimento. Lo è ad esempio per i consacrati che sabato celebreranno la loro giornata sul tema della preghiera cuore pulsante appunto della vita consacrata. In diocesi ci sono numerose famiglie religiose che possono essere conosciute. Le loro porte sono aperte. C'è chi fa della preghiera uno strumento d'incontro con gli ammalati. Nel senso di ascoltarli, di aiutarli. E nello stesso tempo siamo vicini a loro perché abbiamo il compito di portarle nella nostra preghiera davanti al Signore. Questo sempre. Chi in un momento difficile ha trovato forza nella preghiera della Chiesa. L'unico conforto e la comunione con i confratelli e con la Chiesa era proprio la liturgia delle ore e la Santa Messa. E questo mi ha nutrito e mi ha arricchito e mi ha dato la forza di andare avanti. E c'è chi ha imparato a pregare a poco a poco, non per se stesso ma per gli altri e sempre avendo fiducia in Dio. Mi sono abituata col tempo a fare preghiera di affidamento. Signore, queste cose non le capisco molto, ma le accetto. Perché Tu sai. Molte volte, lo dico anche scherzosa a me, alla gente con cui parlo, no? Che mi dicono, ma qui, ma là, ma il mondo oggi. Non preoccupatevi, il Signore sa. Prima o poi si steva tutto. In Diocesi, la giornata per la vita consacrata si svolgerà a Chiavari con un programma ormai tradizionale. In Cattedrale, alle 6 meno un quarto, parte la processione con i Ceri, con il Vescovo, che celebra e presiede poi la Santa Messa. Saremo contenti proprio di avervi molti con noi a celebrare questa nostra giornata.